Incastonata tra l'azzurro del mare ed il verde della campagna, la pineta di Marina di Cescina è una meraviglia naturale frequentata ogni giorno da centinaia di famiglie a passeggio in spiaggia. Purtroppo questo polmone verde combatte da anni con un problema tremendo, l'erosione costiera che inesorabilmente ne divora metri preziosi abbattendo decine di piante sane. Purtroppo l'erosione sta andando avanti, non si ferma, quindi c'è bisogno di interventi molto importanti. In questo momento stiamo facendo un intervento grazie a un finanziamento della regione che è sicuramente un intervento tampone, però in qualche modo può limitare i danni. L'avanzamento del mare pare inesorabile, difficile individuarne l'origine anche se l'ipotesi più probabile pare essere riconducibile al repentino cambio delle correnti. Le scoglie protettive in questo caso, in questo particolare progetto, sono realizzate mediante una serie di atolli che partono da una meno tre fino a pari del pelo marino e sono costituiti da scoglio, da roccia e hanno un diametro di circa 50 metri, hanno distanze di circa 180 metri l'uno dall'altro. Queste favoriscono praticamente la riduzione del motondoso sulla fascia dunale e quindi affievoliscono la forza che il mare ha sull'erosione della costa. Un panorama mozzafiato dove è possibile immergersi tra fusti che svettano verso il cielo respirando aria pulita, ma dove però si rischia anche di inciampare in arbusti crollati o peggio ancora di farsi colpire da piante in libera caduta.